Il programma di mandato del presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, taglia fuori le aree interne e la provincia dell'Aquila. Giudizio netto quello espresso dal consigliere regionale del PD, Pierpaolo Pietrucci, in conferenza stampa assieme al segretario provinciale aquilano dei DEM, Francesco Piacente, e alla segretaria comunale di Avezzano, Anna Paolini. Su temi come infrastrutture, lavori pubblici, sanità, evidenzia Pietrucci, il documento programmatico del presidente di Regione è scarso e superficiale. Le infrastrutture dettano tutta una serie di interventi che sono stati fatti o che saranno fatti, che riguardano la fascia costiera, l'autostrada 14, i porti, l'aeroporto, la ferrovia Pescara-Roma. Non viene minimamente citata quella che è la prospettiva della provincia dell'Aquila, quindi i collegamenti su gomma verso la Sora Cassino, verso la superstrada L'Aquila Matrice, il collegamento ferroviario con Roma e l'A24 e l'A25. Per non parlare dell'ospedale San Salvatore vengono citati gli altri ospedali, mentre manca completamente la prospettiva e la progettualità dell'ospedale San Salvatore. Un documento scarso da rifare, da riscrivere. In pratica le 20 pagine del programma Marsilio concentrano la loro attenzione sull'area costiera della Regione Abruzzo, mentre non delineano prospettive di sviluppo per la restante parte del territorio. Vengono trattate con sette righe la parte che riguarda le aree interne. Noi abbiamo votato una risoluzione alla fine dello scorso mandato che prevedeva l'esenzione del bollo auto per alcuni territori delle aree interne. Ecco, noi volevamo e ci aspettavamo che si ripartisse da lì per cercare di allargare e migliorare la qualità della vita, agevolare chi vive nelle aree di montagna. Non vengono citate le località sciistiche che sono state abbandonate in questi anni completamente. Il programma non si sofferma poi sul nodo della ricostruzione post-sisma a rischio blocco per via delle continue modifiche al superbonus 110%. Ne dice la sua su un tema delicato come quello del gasdotto Snam tratto sul monaffoligno. E ancora nulla sull'istruzione pubblica. A tal proposito, il segretario provinciale aquilano del Partito Democratico, Piacente, ha annunciato l'avvio di una raccolta firme per arrivare all'abrogazione della legge sul dimensionamento scolastico definita fortemente penalizzante per le aree interne abruzzesi.